intanto Giosuè si era fatto vecchio e avanzato negli anni perciò il Signore gli disse tu sei diventato vecchio e avanzato negli anni e il paese è rimasto ancora in gran parte da conquistare questo è il paese che resta tutti i distretti dei filistei e tutto il paese dei gesuriti dal sicor che sta sul confine con l'Egitto fino al confine di Ekron a nord regione attribuita ai cananei i cinque principati dei filistei cioè Gaza, Hasdod, Ascalon, Gat, Ekron con gli Evei a sud tutta la regione dei cananei poi da Ara presso i Sidoni fino ad Afec presso la terra degli Amorrei la regione dei Gibliti e tutto il Libano ad oriente da Baal Gad alle pendici dell'Ermon sino al valico di Kamat tutti quelli che abitano le montagne dal Libano fino a Misrefot Maim tutti i Sidoni io li farò fuggire dinanzi ai figli di Israele intanto però tu distribuisci la regione assorte fra gli israeliti in loro possesso ereditario come io ti ho comandato. Ora dunque ripartisci questa terra in possesso alle nove tribù e alla metà della tribù di Manasse con lui i Rubeniti e i Gaditi hanno già ricevuto la loro parte di possesso quella che dette loro Mosè al di là del Giordano ad oriente la dette loro proprio Mosè servo del Signore da Aroer situata sulla riva del torrente Arnon la città che sta in mezzo alla valle e tutto l'altipiano da Madaba sino a Dibon tutte le città di Sicon re degli Amorrei che regnava in Kesbon fino alla frontiera dei figli di Ammon il Galad con il territorio dei Gesuriti e dei Maacatiti e tutta la montagna dell'Ermon e tutto il Basan fino a Salcal nel Basan tutto il regno di Og che regnava in Astarote e in Edrei ultimo rampollo dei Reifain che Mosè aveva battuto e sterminato ma i figli di Israele non scacciarono i Gesuriti e i Maacatiti perciò Gesur e Maaca dimorano ancora oggi in mezzo a Israele soltanto alla tribù di Levi non fu data alcuna eredità le vittime del Signore Dio di Israele questo è il suo possesso come le è stato detto Mosè dunque aveva dato alla tribù dei figli di Ruben una porzione conforme alle loro famiglie ebbero quindi il territorio dopo Aroer al margine del torrente Arnon e della città che è in mezzo alla valle e tutto l'altipiano presso Madaba Kesbon e tutte le sue città che sono sull'altipiano Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yaaz, Kedemot e Mefaat, Kiriataim, Sibmal, Zeret Sakar sul pendio della vallata, Bet Peor, i pendii del Pisga, Bet Iesimot e tutte le città dell'altipiano e tutto il regno di Sicon e re degli amorrei che aveva regnato in Kesbon che fu battuto da Mosè come i principi di Madian, Evi, Rechen, Zur, Kur e Reba vassalli di Sicon che abitavano nella regione. I figli di Israele uccisero pure con la spada Balaam figlio di Peor l'Indovino sopra i cadaveri dei suoi. Il Giordano fu il confine dei Rubeniti, questo il limite del possesso dei figli di Ruben secondo le loro famiglie con le città e i loro villaggi. Anche alla tribù dei figli di Gad Mosè dette una porzione secondo le loro famiglie. Ebbero in possesso Jaezer e tutte le città del Galaad e metà della terra degli Ammoniti fino ad Aroer che sta di fronte a Rabba. E da Kesbon sino a Ramat Mitzbe e Betonim e da Macanaim fino al confine di Lodebar. Infine nella vallata Bet Aram e Bet Nimra, Sukkot e Zafon, il resto del regno di Sicon, re di Kesbon. Il Giordano era il confine all'estremità del mare di Genesaret sulla riva orientale del Giordano. Questa è l'eredità dei figli di Gad secondo le loro famiglie con le città e i loro villaggi. Mosè aveva dato una porzione anche alla mezza tribù di Manasse. Questo fu il possesso della mezza tribù dei figli di Manasse secondo le loro famiglie. Il loro confine andava da Macanaim, tutto il Basan, tutto il regno di Ogre di Basan e tutti i villaggi di Jair che sono nel Basan. Sessanta città, la metà del Galad, Astaroth e Edrei, città del regno di Ogre nel Basan, toccarono a Machir, figlio di Manasse, cioè alla metà dei figli di Machir, secondo le loro famiglie. Questo è ciò che Mosè aveva dato come eredità mentre era nelle steppe di Moab, al di là del Giordano, ad oriente di Gerico. Alla tribù di Levi, Mosè non dette alcuna eredità. Il Signore, Dio di Israele, doveva essere loro possesso, come aveva detto loro. Ecco ciò che ricevettero in eredità le tribù dei figli di Israele in terra di Canaan, ciò che dettero loro in eredità Eleanzaro sacerdote e Giosuè figlio di Nun e i capi famiglia dei figli di Israele. Distribuzioni fatte a sorte fra le nove tribù e mezza, come aveva comandato il Signore per mezzo di Mosè, perché alle altre due tribù e mezza Mosè aveva dato il possesso al di là del Giordano, mentre ai Leviti non aveva dato alcun possedimento in mezzo ad esse. I figli di Giuseppe, infatti, formavano due tribù, Manasse ed Efraim, e ai Leviti non era stato dato alcun possesso nel paese, ma soltanto alcune città per abitarvi e le pasture adiacenti ad esse per i loro greggi e i loro beni. I figli di Israele, nella ripartizione del terreno, fecero come aveva comandato il Signore, per mezzo di Mosè. Frattanto, i figli di Giuda vennero da Giosuè a Galgala e Caleb, figlio di Efun, il che inizita, gli disse, «Tu sai bene quello che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, a mio e tuo riguardo a Cades Barnea. Io avevo quarant'anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea ad esplorare il paese e io lo informai di tutto come avevo nel cuore. E mentre i miei fratelli che erano venuti con me scoraggiavano il popolo, io seguivo fedelmente il Signore mio Dio». Perciò in quel giorno Mosè giurò, «La terra dove hai posato i tuoi piedi sarà data in eredità a te e ai tuoi figli per sempre, perché hai seguito fedelmente il Signore mio Dio». Ed ora, ecco che il Signore, come aveva promesso, mi ha conservato in vita questi quarantacinque anni da quando egli disse questa cosa a Mosè, allorché Israele vagava nel deserto. Ed ora, ecco, io oggi ho ottantacinque anni, ma sono ancora forte come il giorno in cui Mosè mi mandò ad esplorare, pieno di forze come allora, io posso ancora combattere, andare e venire. Dammi quindi ora questa montagna della quale parlò il Signore quel giorno. Tu stesso infatti lo udisti quel giorno, la vi sono gli anachiti e città grandi e fortificate, se il Signore sarà con me, io li spodesterò, come ha detto il Signore. Giosuè lo benedisse e diede Ebron in eredità a Caleb, figlio di Iefunne. Perciò Ebron è rimasta possesso di Caleb, figlio di Iefunne, il Kenizzita fino ad oggi, perché egli aveva seguito fedelmente il Signore, Dio di Israele. Prima Ebron si chiamava Kiriat Arba, essendo stato questi l'uomo più famoso tra gli anachiti. Poi il paese si riposò dalla guerra. Il territorio toccato in sorte alla tribù dei figli di Giuda, secondo le loro famiglie, era presso il confine di Edom, il deserto di Zin, a sud all'estremità meridionale. Il loro confine meridionale andava dall'estremità del Mar Morto, dalla punta volta a sud, si dirigeva a sud della salita di Acrabim, attraversava Zin e risaliva a sud di Cades e Barnea. Passando quindi per Ketzron, saliva ad Adar e ripiegava verso il Caracah. Passava per Azmon, toccava il torrente d'Egitto e terminava sul mare. Questo era il loro confine meridionale. Ad oriente il confine era costituito dal Mar Morto fino alla foce del Giordano. Il confine settentrionale andava da quella lingua di mare alla foce del Giordano. Risaliva a Bet Ogla, andava a nord di Bet Araba e saliva alla pietra di Boan, figlio di Ruben. Di là il confine saliva a Debir, per la valle di Acor. A nord ripiegava verso Kelilot di rimpetto alla salita di Adun-Nim, che sta a sud del torrente. Poi il confine passava alle acque di Ensemes e terminava ad Enrogel. Risaliva poi alla valle di Ben-Innom, venendo a sud dal fianco dei Gebusei, cioè di Gerusalemme. Risaliva poi sulla cima del monte che domina la valle di Innom, ad ovest, ed è all'estremità della pianura dei Refaim a nord. Dalla cresta del monte il confine volgeva verso la sorgente delle acque di Neftoac, per uscire verso il monte Efron, per rivolgersi poi verso Bala, che è Kiriat Iearim. Da Bala il confine piegava ad ovest, verso il monte Seir, e passava sul pendio settentrionale del monte Iearim, cioè Kesalon. Discendeva a Bet Semes e passava per Timna. Raggiungeva quindi il pendio di Ekron verso nord, si volgeva verso Siccaron, attraversava il monte Bala, raggiungeva Iabneel per terminare al mare. Il confine occidentale era la spiaggia del mar Mediterraneo. Questi erano i confini dei figli di Giuda nel loro percorso, secondo le loro famiglie. A Caleb, figlio di Efun, fu data una porzione in mezzo ai figli di Giuda, secondo quanto aveva ordinato il signore a Giosuè, Kiriat Arba, padre di Anak, cioè Ebron. Caleb ne scacciò i tre figli di Anak, Sesai, Achiman e Talmai, discendenti di Anak. Di là salì contro gli abitanti di Debir, il cui nome era in precedenza Kiriat Sefer. Caleb aveva detto, a chiunque espugnerà Kiriat Sefer e se ne impadronirà, io darò mia figlia Aksa in sposa. La prese Otniel, figlio di Kenaz, fratello di Caleb, che gli diede Aksa, sua figlia, in sposa. Quando essa venne condotta allo sposo, egli la persuase a chiedere a suo padre un campo. Allora ella discese dall'asino e Caleb le domandò, cos'hai? Ella rispose, accordami un favore, perché mi hai destinato la terra del Negeb, dammi qualche sorgente d'acqua. Egli le donò la sorgente superiore e quella inferiore. Questa fu l'eredità della tribù dei figli di Giuda, secondo le loro famiglie. Le città, all'estremità della tribù dei figli di Giuda, verso il confine di Edom, nel negeb erano Kabzeel, Eder, Iagur, Kina, Dimona, Arara, Kedes, Azor, Itnam, Zif, Telem, Bealot, Azor Kadatta, Teriot e Ketzron, cioè Azor, Amam, Sema, Molada, Kazargadda, Kesmon, Bekpelet, Kazarsual, Bersabea e le sue dipendenze, Baala, Hihim, Edzem, Eltolad, Kesil, Korma, Ziklag, Matmanna, Sansanna, Lebaot, Silkim e Rimmon, in tutto ventinove città e i loro villaggi. Nella Sepela, Estaol, Zorea, Asna, Zanoac, Emganim, Tapuac, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Quattordici città e i loro villaggi. Zenan, Kadaza, Migdalgad, Dilean, Mitzpe, Joktel, Lakis, Boscat, Eglon, Kabon, Lakmas, Kitlis, Gederot, Betdagon, Naama e Makeda. Sedici città e i loro villaggi. Libna, Eter, Asan, Iftak, Asna, Nezib, Keila, Akzib e Mareza. Nove città e i loro villaggi. Akharon, le città del suo territorio e i suoi villaggi. Da Akharon fino al mare, tutte le città vicine ad Asdod e i loro villaggi. Asdod, le città del suo territorio e i suoi villaggi. Gaza, le città del suo territorio e i suoi villaggi fino al torrente d'Egitto e al mar Mediterraneo che serve di confine. Sulle montagne. Samir, Yattir, Soko, Danna, Kiriat Sanna, cioè Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Kolon e Gilo. Undici città e i loro villaggi. Arab, Duma, Ezean, Janum, Bet-Tapuach, Afeka, Kunta, Kiriat Arba, cioè Ebron e Zior. Nove città e i loro villaggi. Maon, Carmelo, Sif, Jutta, Israel, Jokdeam, Zanoac, Cain, Gibea e Tinna. Dieci città e i loro villaggi. Calcul, Bet-Sur, Gedor, Marat, Bet-Anot ed Eltecon. Sei città e i loro villaggi. Tequa, Efrata, cioè Betlemme. Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Gallim, Veter, Manac. Undici città e i loro villaggi. Kiriat Baal, cioè Kiriat Yearim. E Rabba, due città e i loro villaggi. Nel deserto, Bet-Araba, Midin, Sekaka. Nibsan, la città del Sale e Engaddi. Sei città e i loro villaggi. Però i figli di Giuda non riuscirono a scacciare i Gebusei che abitavano Gerusalemme. Perciò i Gebusei abitano anche oggi in Gerusalemme insieme ai figli di Giuda. Uscì quindi la sorte per i figli di Giuseppe. Dal Giordano di Gerico verso le acque di Gerico ad est e il deserto che sale da Gerico alla montagna di Betel. Il confine usciva da Betel-Luzza e passava per i confini degli Architi ad Ataroth. Scendeva ad ovest verso il confine degli Affletiti fino ai confini di Bet-Oron inferiore e sino a Gezer per terminare al mare. Tale fu il possesso che si divisero i figli di Giuseppe, Manasse ed Efraim. Ecco la frontiera dei figli di Efraim secondo le loro famiglie. Il confine del loro possesso da est era da Ataroth a Bet-Oron superiore e il confine terminava al mare. Mikmetat a nord, quindi il confine piegava verso oriente a Ta'anat-Silo da dove passava ad ovest in direzione di Yanoach. Da Yanoach scendeva ad Ataroth e Nahara e toccava Gerico per terminare al Giordano. Da Tapuach il confine ad ovest andava al torrente Kana e terminava al mare. Questa è la porzione dei figli di Efraim secondo le loro famiglie. Oltre le città riservate ai figli di Efraim in mezzo alla porzione dei figli di Manasse, tutte queste città e i loro villaggi. Non scacciarono però i Cananei che abitavano Gezer. Perciò i Cananei sono rimasti in mezzo ad Efraim sino ad oggi, soggetti a tributo. Questa fu la parte sorteggiata per la tribù di Manasse che era il primogenito di Giuseppe. A Machir, primogenito di Manasse, padre di Galaad, toccò il Galaad e il Basan come conveniva ad un uomo di guerra quale gli era. Ebbero la loro parte gli altri figli di Manasse secondo le loro famiglie, i figli di Abiezer, i figli di Elek, i figli di Asriel, i figli di Sichem, i figli di Kefer e i figli di Semida. Questi erano i figli maschi di Manasse, figlio di Giuseppe, secondo le loro famiglie. Zelofkad, figlio di Kefer, figlio di Galad, figlio di Machir, figlio di Manasse, non ebbe figli ma soltanto figlie che si chiamavano Makla, Noa, Kogla, Nilca e Tirza. Si presentarono al sacerdote Eleazzaro e a Giosuè, figlio di Nun e ai capi dicendo «Il Signore ha comandato a Mosè di dare anche a noi una porzione in mezzo ai nostri fratelli». Così fu data loro una porzione in mezzo ai fratelli del loro padre, secondo l'ordine del Signore. Così a Manasse toccarono dieci parti oltre la terra del Galad e del Basan, al di là del Giordano. Le figlie di Manasse ebbero infatti una eredità in mezzo ai figli di lui. La regione del Galad toccò agli altri figli di Manasse. Il confine di Manasse andava da Aser, Nikmeetat, che dinanzi a Sichem e girava a destra verso Iasi per la sorgente di Tapuach. Così la regione di Tapuach apparteneva a Manasse, mentre Tapuach, ai confini di Manasse, apparteneva ai figli di Efraim. Il confine poi scendeva al torrente Cana. A sud del torrente queste città erano di Efraim e in mezzo alle città di Manasse. Il confine di Manasse passava a nord del torrente e terminava al mare. Il territorio a sud apparteneva ad Efraim, a nord a Manasse e suo confine era il mare. Erano confinanti con Aser a nord e con Issachar ad est. A Manasse appartenevano i Nissachar e i Naser Betsean e le sue dipendenze. Ibeam e le sue dipendenze, gli abitanti di Dor e sue dipendenze, gli abitanti di Endor e sue dipendenze, gli abitanti di Tanakh e sue dipendenze, gli abitanti di Meghiddo e le città dipendenti. Tre contrade. Siccome i figli di Manasse non poterono impossessarsi di queste città, i Cananei continuarono ad abitare in quella regione. Quando i figli di Israele diventarono potenti, posero in servitù i Cananei, ma non li scacciarono. I figli di Giuseppe parlarono così a Giosuè. Perché mi hai dato in eredità una sola porzione, una sola misura, mentre sono un popolo numeroso, poiché il Signore mi ha tanto benedetto? Giosuè rispose loro, se sei un popolo numeroso, sali alla foresta e disbosca ivi per conto tuo nella terra dei Perizziti e dei Refaim, se è troppo angusta per te la montagna di Efraim. Ripresero i figli di Giuseppe, non ci basta la montagna. I Cananei che abitano nella pianura, quelli cioè di Bethsean e sue dipendenze, e quelli della valle di Israele hanno carri di ferro. Rispose Giosuè alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manasse. Tu sei un popolo forte e hai tanta robustezza, non avrai una sola porzione. La montagna, infatti, sarà tua. Essa, è vero, è una foresta, ma tu la disboscherai e sarà tua con i suoi proventi, poiché tu ne scaccerai i Cananei, anche se essi hanno carri di ferro e sono forti. Si riunì quindi tutta la comunità dei figli di Israele in Silo, dove eressero la tenda del convegno. La terra che stava dinanzi a loro era stata sottomessa. Erano però rimaste tra i figli di Israele sette tribù che non avevano ricevuto la loro porzione. Disse perciò Giosuè ai figli di Israele, Fino a quando sarete voi così negligenti nell'andare ad occupare la terra che il Signore, Dio dei padri vostri, vi ha dato, sceglietevi tre uomini per tribù ed io li invierò a percorrere e descrivere il paese in vista della spartizione e poi torneranno da me. Lo divideranno in sette parti. Giuda resterà nella sua porzione a sud e quei della casa di Giuseppe resteranno nei loro confini a nord. Voi farete la descrizione del paese in sette parti e me la porterete qui, in modo che io possa tirarvele a sorte, qui davanti al Signore, nostro Dio. I Leviti, infatti, non devono avere parte in mezzo a voi, essendo il sacerdozio del Signore la loro eredità. E Gad e Ruben e metà della tribù di Manasse hanno avuto la loro porzione al di là del Giordano ad Oriente, data loro da Mosè, servo del Signore. Si levarono allora e partirono quegli uomini dopo che Giosuè aveva dato quest'ordine ai partenti per la descrizione del paese. Andate e percorrete la terra, descrivetela e poi tornate da me e qui io ve la sorteggerò davanti al Signore, in Silo. Quegli uomini andarono, attraversarono la regione e ne descrissero in un libro le città in sette suddivisioni. Poi ritornarono da Giosuè nell'accampamento di Silo. Giosuè tirò per essi le sorti in Silo davanti al Signore ed Ivi distribuì la terra ai figli di Israele secondo le loro divisioni. Fu fatto il sorteggio per la tribù dei figli di Beniamino secondo le loro famiglie. Il confine delle parti loro sorteggiate fu tra i figli di Giuda e i figli di Giuseppe. Il loro confine dal lato settentrionale partiva dal Giordano, saliva per il pendio settentrionale di Gerico, saliva sulla montagna verso ovest e terminava al deserto di Bethaven. Di lì il confine passava a Luzza, sul pendio di Luzza a sud che oggi è Betel. Poi scendeva ad Ataro Taddar, sul monte che sta a sud di Bet Oron inferiore. Poi il confine piegava, girando sul lato occidentale verso sud, dal monte che è dinanzi a Bet Oron, verso sud, per terminare a Kiriat Yearim, città dei figli di Giuda. Questo è il lato ovest. Il lato sud partiva dall'estremità di Kiriat Yearim e continuando il confine ovest terminava la sorgente di Neftoach. Poi il limite scendeva all'estremità del monte che è dinanzi alla valle di Ben-Innom, che è nella valle dei Refaim, dal lato nord, e scendeva per la valle di Innom sul pendio meridionale dei Gebusei, fino a En-Rogel. Piegava poi a nord per uscire ad En-Semes ed usciva nelle curve che sono davanti alla salita di Adumim per discendere al sasso di Bocan, figlio di Ruben. Passava sulle pendici, di fronte all'Araba, a nord, e discendeva verso l'Araba. Poi il confine continuava sul fianco nord di Bet Cogla e terminava sulla baia del Mar Morto a nord, all'estremità meridionale del Giordano. Questo era il confine meridionale. Il Giordano era il suo confine dalla parte orientale. Questa era l'eredità dei figli di Beniamino, con i propri confini tutti intorno, secondo le loro famiglie. Le città della tribù dei figli di Beniamino erano secondo le loro famiglie. Gerico, Bet Cogla, Eme Kheziz, Bet Araba, Zenaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefar Ammonai, Ofni e Geba, dodici città e i loro villaggi. Gabaon, Rama, Beerot, Nizbe, Kefira, Mosa, Rechen, Irpel, Tareala, Zela Elef, Yebus, cioè Gerusalemme, Gaba, Kiriat Yearim, quattordici città e i loro villaggi. Questa fu la parte sorteggiata per la tribù di Beniamino, secondo le loro famiglie. Il secondo sorteggio toccò a Simeone, alla tribù dei figli di Simeone, secondo le loro famiglie. La loro proprietà si trovò ad essere in mezzo ai figli di Giuda. ebbero come proprietà Bersabea, Seba, Molada, Casarsusa, Bala, Asem, Eltolad, Betul, Korma, Siklag, Bet-Markabot, Casarsusa, Bet-Elebaot, Saruken. 13 città con i loro villaggi. En, Rimmon, Eter, Asan. Quattro città e i loro villaggi. Tutti i villaggi che erano intorno a queste città, fino a Balat, Ber, Ramat, Negev. Questa era la porzione della tribù dei figli di Simeone, secondo le loro famiglie. La porzione dei figli di Simeone fu presa da quella dei figli di Giuda, perché la porzione dei figli di Giuda era troppo grande per loro. E così i figli di Simeone ottennero la parte in mezzo alla loro porzione. Il terzo sorteggio venne estratto per i figli di Zabulon, secondo le loro famiglie. Il limite del loro possesso si estendeva fino a Sarid. Di lì il loro confine saliva ad ovest verso Mareala e raggiungeva Dabbeset, e poi il torrente che è di fronte a Iocneam. Da Sarid il confine volgeva ad est, dove sorge il sole, fino al confine di Kislot e Tabor. Usciva a Daberat e saliva a Iafia. Di là passava in direzione est a Gatkefer, a Etkazin, usciva a Rimmon e volgeva verso Nea. Poi il confine piegava a nord verso Cannaton e faceva capo alla valle di Ftachel. Esso includeva inoltre Katat, Nahalol, Simron, Ideala e Betlemme, dodici città e i loro villaggi. Questo fu il possesso dei figli di Zabulon, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La quarta parte, sorteggiata, toccò a Issachar, ai figli di Issachar, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva Israël, Kesulot, Sumem, Kafaraim, Sion, Anakarat, Rabit, Kision, Abetz, Remet, Enganim, Emkad e Bet-Pazetz. Poi il confine giungeva a Tabor, Sakazim, Bet-Semes e faceva capo al Giordano. Sedici città e i loro villaggi. Questo fu il possesso della tribù dei figli di Issachar, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La quinta parte, sorteggiata, toccò i figli di Azer, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva Kelcat, Kali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amead, Niseal. Il loro confine giungeva verso Occidente al Carmelo e a Sicorlibnat, quindi piegava dal lato dove sorge il sole verso Bet-Dagon, toccava Zabulon e la valle di Iftakel al nord, Bet-Emech e Neiel e si prolungava verso Kabul a sinistra e verso Ebron, Rehkob, Ammon e Kana fino a Sidone la Grande. Poi il confine piegava verso Rama fino alla fortezza di Tiro, girava verso Cosa e faceva capo al mare, incluse Nekebel, Aksib, Akko, Afek e Rehkob, 22 città e i loro villaggi. Questa era la parte toccata ai figli di Azer, secondo le loro famiglie, queste città, con i loro villaggi. La sesta parte, sorteggiata, toccò ai figli di Neftali, secondo le loro famiglie. Il loro confine si estendeva da Kelef e dalla quercia di Bezanim ad Adami Nekeb e Iabneel fino all'Akkum e faceva capo al Giordano. Poi il confine piegava occidente verso Aznot-Tabor e di là continuava verso Kukkok. Giungeva a Zabulon dal lato di Mezzogiorno, ad Azer dal lato d'Occidente e a Giuda del Giordano dal lato di Levante. Le fortezze erano Ziddim, Zer, Kammat, Rakat, Genesaret, Adama, Rama, Azor, Kedes, Edrei, Enazor, Ireon, Migdal-El, Korem, Bet-Anat e Bet-Semes. Diciannove città e i loro villaggi. Questa era la parte toccata ai figli di Neftali, secondo le loro famiglie, le città e i loro villaggi. Il settimo sorteggio fu per la tribù dei figli di Dan, secondo le loro famiglie. Il confine del loro territorio era Sorea, Estaol, Irsemes, Salabim, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Akaron, Elteche, Gibeton, Baalat, Yeud, Beneberac, Gaterimon, Mejarkon e Racon, con il territorio davanti a Giaffa. Ma la porzione dei figli di Dan risultò troppo piccola per loro. Perciò i figli di Dan salirono a prendere d'assalto l'Esem, la presero e la passarono a fil di spada. Come se ne furono impadroniti vi si stabilirono e all'Esem misero nome Dan, dal nome di Dan, loro padre. Questa era porzione dei figli di Dan, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. Quando ebbero finito di sorteggiare il paese, secondo le sue ripartizioni, i figli di Israele dettero in mezzo a loro una porzione a Giosuè, figlio di Nun, conforme alle disposizioni del Signore. Gli dettero la città di Timnat Serach che gli aveva chiesto sui monti di Efraim. Egli la ricostruì e vi abitò. Queste sono le eredità che il sacerdote Eleazaro, Giosuè, figlio di Nun, e i capi famiglia delle tribù dei figli di Israele, sorteggiarono in silo davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno. Così posero termine alla distribuzione della terra. Il Signore, così parlò a Giosuè, Rivolgi la parola ai figli di Israele e di loro Sceglietevi le città di rifugio delle quali vi ho parlato per mezzo di Mosè in modo che vi si possa rifugiare l'omicida che ha ucciso per inavvertenza senza accorgersene. Esse saranno di rifugio contro il vendicatore del sangue. E quando sarà fuggito ad una di queste città si fermerà all'ingresso della porta della città ed esporrà il suo caso agli anziani di quella città. Essi lo riceveranno nella loro città e gli assegneranno un posto sicché egli possa abitare con essi. Se il vendicatore del sangue lo inseguirà non gli consegneranno in mano l'omicida perché egli ha percosso il suo vicino senza accorgersene né prima gli ha portato odio. Egli rimarrà nella città fino alla morte del sommo sacerdote che sarà in carica in quel tempo e dopo essere comparso in giudizio davanti all'assemblea. Allora l'uccisore potrà tornare e andare alla sua città nella sua casa nella città cioè dalla quale era fuggito. Essi scelsero Cades in Galilea sulle montagne di Neftali Sichem sulle montagne di Efraim e Kiriat Arba cioè Ebron sui monti di Giuda. Oltre il Giordano a oriente di Gerico scelsero Bezer nella regione desertica dell'altipiano della tribù di Ruben Ramot nel Galad della tribù di Gad e Golan nel Basan nella tribù di Manasse. Queste furono le città stabilite per tutti i figli di Israele e gli stranieri che abitavano in mezzo a loro perché potesse rifugiarvisi chiunque avesse ucciso per inavvertenza e non essere ucciso dal vendicatore del sangue prima di essere comparso davanti all'assemblea. Si presentarono poi i capi famiglia dei Leviti al sacerdote Eleazzaro a Giosuè figlio di Nun e ai capi famiglia delle tribù dei figli di Israele e parlarono loro a Silo in terra di Canaan così. Il Signore comandò per mezzo di Mosè di darci delle città per abitardi e i loro dintorni per i nostri greggi. I figli di Israele dettero ai Leviti dalle loro porzioni secondo le disposizioni del Signore queste città con i loro dintorni. uscì la sorte per la famiglia dei Cheatiti. Fra i Leviti ai figli del sacerdote Aronne toccarono in sorte tredici città nella tribù di Giuda nella tribù di Simeone e nella tribù di Beniamino. Ai restanti figli di Cheat secondo le loro famiglie furono assegnate per sorteggio dieci città nella tribù di Efraim nella tribù di Dan e nella mezza tribù di Manasse. per i figli di Gerson secondo le loro famiglie furono sorteggiate tredici città nella tribù di Issacar di Aser di Neftali e nella mezza di Manasse nel Basan. Ai figli di Merari secondo le loro famiglie furono sorteggiate dodici città nelle tribù di Ruven di Gad e di Zabulon. Così i figli di Israele sorteggiarono fra i Leviti queste città con i loro pascoli come aveva disposto il Signore per mezzo di Mosè. Essi dettero dalla tribù dei figli di Giuda e dalla tribù dei figli di Simeone quelle città di cui vengono ricordati i nomi. Questa fu la porzione per i figli di Aronne appartenenti alle famiglie levitiche dei Cheatiti per i quali fu estratto il primo sorteggio. Furono date loro Chiri a Tarba padre di Ana che cioè Ebron sui monti di Giuda e i pascoli circostanti ma i campi della città e i villaggi d'intorno furono dati a Caleb figlio di Iefun in sua proprietà. Ai figli di Aronne sacerdoti furono date le città di rifugio per l'omicida cioè Ebron e i suoi pascoli Libna e i suoi pascoli Yattir e i suoi pascoli Estemoa e i suoi pascoli Debir e i suoi pascoli Olon e i suoi pascoli Ain e i suoi pascoli Iutta e i suoi pascoli Betsemes e i suoi pascoli nove città di quelle due tribù della tribù di Beniamino Gabaon e i suoi pascoli Geba e i suoi pascoli Anatote e i suoi pascoli Almon e i suoi pascoli quattro città in tutto le città dei sacerdoti figli di Aronne furono tredici città con i loro pascoli Alle famiglie dei leviti figli di Keat cioè agli altri figli di Keat furono assegnate per sorteggio alcune città nella tribù di Efraim Fu data loro come città di rifugio per l'omicida Sichem e i suoi pascoli sui monti di Efraim poi Gezzer e i suoi pascoli Kibzaim e i suoi pascoli Bet-Oron e i suoi pascoli quattro città Nella tribù di Dan Elteche e i suoi pascoli Ghibeton e i suoi pascoli Ayalon e i suoi pascoli Gat-Rimon e i suoi pascoli quattro città Nella mezza tribù di Manasse Tanache e i suoi pascoli Ibleam e i suoi pascoli due città in tutto per le famiglie dei figli di Keat dieci città con i loro pascoli Ai figli di Gerson delle famiglie levitiche nella mezza tribù di Manasse come città rifugio per l'omicida diedero Golan e il Basan con i suoi pascoli poi Astaroth con i suoi pascoli due città Nella tribù di Issachar Kision con i suoi pascoli Daberat e i suoi pascoli Yarmut e i suoi pascoli Engannim e i suoi pascoli quattro città Nella tribù di Aser Niseal e i suoi pascoli Abdon e i suoi pascoli Kelcat e i suoi pascoli Recobe e i suoi pascoli quattro città Nella tribù di Neftali la città rifugio per l'omicida Cades in Galilea e i suoi pascoli Cammot Dor e i suoi pascoli Cartan e i suoi pascoli tre città In tutto in tutte le città date ai Gersoniti secondo le loro famiglie furono tredici città con i loro pascoli Alle famiglie dei figli di Merari i leviti rimasti furono date Nella tribù di Zabulon Iocneam e i suoi pascoli Carta e i suoi pascoli Dinna e i suoi pascoli Nahal e i suoi pascoli quattro città Nella tribù di Ruben la città rifugio per l'omicida Bezer e i suoi pascoli Iaz e i suoi pascoli Kedemot e i suoi pascoli Nefaat e i suoi pascoli quattro città Nella tribù di Gad la città rifugio per l'omicida Ramot nel Galad e i suoi pascoli Makanaim e i suoi pascoli Kesbon e i suoi pascoli Iazer e i suoi pascoli in tutto quattro città In tutto le città sorteggiate per i figli di Merari cioè alle restanti famiglie dei Leviti furono dodici città In tutto le città dei Leviti in mezzo alla proprietà dei figli di Israele furono quarantotto città con i loro pascoli Ciascuna di queste città comprendeva la città e i pascoli intorno ad essa Così era di tutte quelle città Così il Signore dette a Israele tutta la terra che aveva giurato di dare ai loro padri essi la conquistarono e vi si stabilirono il Signore dette loro riposo tutti intorno conforme a quanto aveva giurato ai loro padri nessuno poter resistere loro fra tutti i loro nemici il Signore consegnò in loro potere tutti i loro nemici non fallì una sola cosa di tutte le buone promesse che il Signore aveva fatto alla casa di Israele tutto si compì allora Giosuè chiamò i rubeniti i gaditi e quelli della mezza tribù di Manasse e disse loro voi avete osservato tutto quanto vi comandò Mosè servo del Signore e avete obbedito alla mia voce in tutto quello che vi ho comandato non avete abbandonato i vostri fratelli in tutto questo lungo periodo fino ad oggi avete invece osservato tutte le prescrizioni che vi ha imposto il Signore vostro Dio ed ora il Signore vostro Dio ha dato pace ai vostri fratelli come aveva loro promesso ora quindi riprendete la via del ritorno alle vostre tende alla terra di vostra eredità che vi ha dato Mosè servo del Signore al di là del Giordano mettete tutta la vostra attenzione nell'osservare le prescrizioni e la legge che vi ha imposto Mosè servo del Signore vostro Dio seguendo tutte le sue direttive e osservando i suoi comandamenti rimanendo uniti a lui e servendolo con tutto il vostro cuore e tutta la vostra anima così Giosuè li benedisse e li licenziò ed essi tornarono alle loro tende a mezza tribù di Manasse Mosè aveva dato un possesso nel Basan all'altra mezza invece Giosuè lo aveva dato in mezzo ai loro fratelli di qua dal Giordano ad Ovest quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse disse loro voi fate ritorno alle vostre tende con grandi ricchezze con numeroso bestiame con argento oro bronzo e con moltissime vesti dividete le spoglie dei vostri nemici con i vostri fratelli partirono quindi i figli di Ruben i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse dai figli di Israele d'assilo nella terra di Canaan per andare nella regione del Galad la terra di loro proprietà che avevano ricevuto in possesso dietro l'ordine dato dal Signore per mezzo di Mosè giunti ai bordi del Giordano in terra di Canaan i figli di Ruben i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse costruirono un altare presso il Giordano un altare maestoso a vedersi i figli di Israele sentirono dire ecco che i figli di Ruben i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse hanno costruito un altare in faccia alla terra di Canaan ai bordi del Giordano nella regione dei figli di Israele quando udirono questo i figli di Israele si convocò a Silo l'adunanza dei figli di Israele per andare contro di essi e combatterli intanto i figli di Israele mandarono i figli di Ruben ai figli di Gad e alla mezza tribù di Manasse nella regione del Galahad Finees figlio del sacerdote Eleazzaro e con lui dieci principi un principe per ogni tribù di Israele ciascuno dei quali era capo della sua famiglia tra le migliaia di Israele questi vennero dai figli di Ruben dai figli di Gad e dalla metà della tribù di Manasse nella regione del Galahad e parlarono loro in questi termini così parla tutta la comunità del Signore cos'è questa infedeltà che avete connesso contro il Dio di Israele rivoltandovi dal Signore costruendovi un altare per ribellarvi al Signore fu forse piccola cosa per noi l'iniquità di Peor della quale non ci siamo purificati fino ad oggi che attirò una strage sulla comunità di Israele voi oggi negate di voler seguire il Signore non avverrà ribellandovi voi oggi contro il Signore che domani arda l'ira contro tutta la comunità di Israele che se è impura la terra di vostra eredità trasferitevi nella terra di proprietà del Signore laddove è fissato il tabernacolo del Signore e prendetevi l'eredità in mezzo a noi ma non ribellatevi al Signore e non ribellatevi contro di noi costruendovi un altare come controaltare a quello del Signore nostro Dio quando Akan figlio di Zerac commise infedeltà riguardo allo sterminio non fu forse l'ira contro tutta la comunità di Israele quantunque egli fosse un solo uomo non perì solo nella sua iniquità risposero allora i figli di Ruben i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse parlando così ai capi delle migliaia dei figli di Israele Dio Dio il Signore Dio Dio il Signore egli sa e Israele deve sapere se fu per ribellione o per infedeltà al Signore che egli non ci saldi in questo giorno se ci siamo costruiti un altare per distornarci dal Signore o se per offrire vittime e olocausti e per compiervi sacrifici pacifici lo stesso Signore ce ne chieda conto ma noi piuttosto abbiamo fatto questo con preoccupazione pensando che un domani i vostri figli potessero dire ai nostri figli cosa avete voi a che fare con il Signore Dio di Israele il Signore ha messo un confine il Giordano fra noi e voi o figli di Ruben e figli di Gad voi non avete parte con il Signore e così i vostri figli potrebbero distogliere i nostri figli dal timore del Signore perciò abbiamo detto costruiamo un altare non per gli olocausti non per i sacrifici ma quale testimonio fra noi e voi e le nostre generazioni dopo di noi per attestare il nostro servizio al cospetto del Signore con i nostri olocausti i nostri sacrifici e le nostre vittime pacifiche e perché un giorno i vostri figli non dicano ai nostri figli voi non avete parte con il Signore perciò ci siamo detti se avverrà che un giorno parlino così a noi o alle nostre generazioni risponderemo guardate la forma dell'altare del Signore che costruirono i nostri padri non per immolare né per sacrificare è soltanto un testimonio fra noi e voi lungi da noi l'intenzione di distornarci dal Signore di voler oggi abbandonare il Signore costruendo un altare per olocausti e sacrifici e oblazioni separatamente dall'altare del Signore nostro Dio che sta innanzi al suo tabernacolo come il sacerdote Phineas i principi della comunità e i capi delle migliaia di Israele che erano con lui intesero le parole che pronunziarono i figli di Ruben i figli di Gad e i figli di Manasse ne rimasero soddisfatti disse perciò il sacerdote Pincas figlio di Eleazzaro ai figli di Ruben ai figli di Gad e ai figli di Manasse noi oggi constatiamo che è in mezzo a voi il Signore che voi non avete commesso questa infedeltà contro il Signore pertanto voi avete liberato i figli di Israele dalla mano del Signore quindi Phineas figlio di Eleazzaro sacerdote e i principi lasciarono i figli di Ruben e di Gad e ritornarono dalla terra del Galad nella terra di Canaan ai figli di Israele ai quali portarono la risposta la risposta piacque ai figli di Israele i quali benedissero il Signore e non parlarono più di andare a combattere contro quelli per distruggere la terra dove abitavano i figli di Ruben e i figli di Gad i figli di Ruben e i figli di Gad chiamarono l'altare testimonio poiché dissero esso è testimonio in mezzo a noi che il Signore è Dio trascorsi molti giorni dal tempo in cui il Signore aveva dato riposo a Israele da tutti i suoi nemici all'intorno Giosuè ormai vecchio e avanzato in età convocò tutto Israele i suoi anziani i suoi principi i suoi giudici e i suoi ufficiali e disse loro io sono diventato vecchio e avanzato in età voi avete veduto tutto quello che ha fatto il Signore vostro Dio a tutte queste nazioni a causa di voi poiché è il Signore vostro Dio che ha combattuto per voi vedete io vi ho distribuito per sorte come eredità per le vostre tribù queste nazioni che restano come tutte quelle nazioni che io ho sterminato dal Giordano fino al mar Mediterraneo ad ovest il Signore vostro Dio li scaccerà davanti a voi li spossesserà davanti ai vostri occhi e voi prenderete possesso del loro paese come vi ha detto il Signore vostro Dio siate perciò fortemente costanti nel ritenere e praticare tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè senza deviare né a destra né a sinistra senza venire a contatto con queste nazioni che sono rimaste con voi non fate menzione del nome dei loro dei non giurate per essi non servite non fate adorazione davanti a loro ma state attaccati al Signore vostro Dio come avete fatto fino a questo giorno il Signore infatti ha distrutto davanti a voi nazioni grandi e forti e non c'è stato uno che abbia tenuto fronte a voi fino ad oggi uno solo di voi poteva inseguirne migliaia perché il Signore vostro Dio egli stesso combatteva per voi come vi aveva promesso badate bene per le vostre anime di amare il Signore vostro Dio che se gli volterete le spalle e vi unirete al resto di quelle nazioni che sono rimaste con voi se contrarrete con esse matrimoni e vi mischierete ad esse ed esse a voi allora abbiate per certo che il Signore vostro Dio non continuerà a distruggere quelle nazioni davanti a voi ma esse saranno per voi una rete un laccio un flagello ai vostri fianchi e spine nei vostri occhi finché non siate spariti da questa buona terra che vi ha dato il Signore vostro Dio ecco che io oggi me ne vado per la via di ogni uomo voi pertanto riconoscete con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima che non è andata a vuoto una cosa sola di tutte quelle belle cose che aveva detto il Signore vostro Dio tutto si è avverato per voi non è fallita una sola cosa ora come si è avverata per voi ogni bella promessa che vi aveva fatto il Signore vostro Dio così il Signore farà cadere su di voi ogni parola cattiva finché non siate sterminati da questa buona terra che vi ha dato il Signore vostro Dio se trasgredirete l'alleanza del Signore vostro Dio che gli vi ha prescritto e andrete a servire altri dei e vi darete loro allora si infiammerà contro di voi l'ira del Signore e rapidamente voi sparirete da questa buona terra che vi ha dato Giosuè radunò tutte le tribù di Israele in Sichen e chiamò gli anziani di Israele i suoi capi i suoi giudici e i suoi ufficiali che si presentarono davanti a Dio Giosuè disse a tutto il popolo così ha parlato il Signore Dio di Israele al di là del fiume abitavano anticamente i vostri padri Terach padre di Abramo e padre di Nacor essi servivano ad altri dei ma io trassi il vostro padre Abramo da di là del fiume e lo fece andare per tutta la terra di Canaan moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco a Isacco diedi Giacobbe ed Esau ad Esau diedi il monte Seir come suo possesso Giacobbe e i suoi figli invece discesero in Egitto mandai quindi Mosè ed Aronne e colpì l'Egitto con quello che feci in esso poi ve ne feci uscire feci uscire i vostri padri dall'Egitto e arrivarono fino al mare gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso essi gridarono al Signore ed egli pose fitte tenebre fra voi e gli egiziani e fece scorrere su di loro il mare che li sommerse i vostri occhi hanno veduto quello che ho fatto in Egitto e voi avete dimorato molto tempo nel deserto io vi condussi nella terra degli Amorrei che abitavano al di là dal Giordano fecero guerra contro di voi ed io li consegnai nelle vostre mani voi avete conquistato la loro terra ed io li ho distrutti davanti a voi poi sorse Balak figlio di Zippor re di Moab a combattere contro Israele e mandò a chiamare Balaam figlio di Beor per maledirvi ma io non vogli ascoltare Balaam egli stesso dovette benedirvi e vi salvai dalle sue mani avete poi attraversato il Giordano e siete pervenuti a Gerico i signori di Gerico vi hanno fatto guerra come pure gli Amorrei i Perizziti i Cananei gli Ittiti i Gergesei gli Evei i Gebusei ma io li ho consegnati in vostra mano io mandai innanzi a voi le vespe pungenti che hanno scacciato davanti a voi i due re amorriti non per la vostra spada non per il vostro arco vi ho dato una terra che voi non avete coltivato e città che non avete costruito eppure vi abitate e mangiate i frutti delle vigne e degli oliveti che non avete piantati ora quindi temete il Signore e servitelo con fedeltà e sincerità e togliete via gli dèi ai quali hanno servito i vostri padri di là dal fiume e in Egitto e servite il Signore che se vi sembra duro servire il Signore sceglietevi oggi stesso chi volete servire se gli dèi che hanno servito i vostri padri di là dal fiume o gli dèi degli Amorrei nella cui terra voi abitate io e la mia famiglia serviremo il Signore il popolo rispose e disse lungi da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi poiché il Signore è il nostro Dio che ha fatto salire noi e i nostri padri dalla terra d'Egitto dalla casa degli schiavi ha operato queste grandi meraviglie davanti ai nostri occhi ci ha protetti per tutta la strada che abbiamo percorso e fra tutti i popoli in mezzo ai quali siamo passati il Signore ha scacciato davanti a noi tutti i popoli e gli Amorrei che abitavano il paese perciò anche noi vogliamo servire il Signore perché Egli è il nostro Dio allora Giosuè disse al popolo voi non potete servire il Signore perché Egli è un Dio santo un Dio geloso Egli non sopporta le vostre trasgressioni e i vostri peccati se voi abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri Egli si volterà vi manderà del male e vi distruggerà dopo avervi tanto beneficato rispose il popolo a Giosuè no noi serviremo il Signore allora Giosuè disse al popolo voi siete testimoni contro voi stessi che avete scelto il Signore per servirlo quelli risposero siamo testimoni Giosuè disse allora togliete via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e indirizzate i vostri cuori al Signore Dio di Israele il popolo rispose a Giosuè serviremo il Signore nostro Dio e ascolteremo la sua voce così Giosuè in quel giorno strinse un patto con il popolo e impose loro uno statuto e una regola a Sicem poi Giosuè scrisse quelle parole nel libro della legge di Dio prese una grande pietra e ladrizzò Ivi sotto il terebinto che era nel santuario del Signore Giosuè disse a tutto il popolo ecco questa pietra sarà una testimonianza per noi perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto sarà una testimonianza contro di voi perché voi non rinneghiate il vostro Dio quindi Giosuè congedò il popolo ciascuno alla sua eredità dopo queste cose morì Giosuè figlio di Nun servo del Signore egli aveva centodieci anni lo seppellirono nel territorio di sua proprietà a Timnat Serac che era sulle montagne di Efraim a nord del monte Gaas Israele servì il Signore per tutta la vita di Giosuè e per tutti i giorni degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano constatato tutte le opere che il Signore aveva fatto per Israele le ossa di Giuseppe che i figli di Israele avevano portato dall'Egitto le misero nella tomba a Sichem in una parte del terreno che aveva comprato Giacobbe dai figli di Camor padre di Sichem per cento sicli d'argento e che i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità poi morì anche Eleazaro figlio di Aronne e lo seppellirono a Gaba di Phines suo figlio luogo che gli era stato dato sulle montagne di Efraim